rio spada cosmologia e origine umana io umile creatura della terra mi sento piccola nel considerare quanto qui scritto e ricevuto medianicamente la massa densa e infuocata ruotava negli spazi infiniti seguendo la repulsione del restante armonico e ruotò e con lei rotolarono i millenni del tempo mentre ruotava cominciò a subire nel suo seno lente trasformazioni che la portarono ad un tale grado di concentrazione che le energie stesse più non ressero al fuoco divorante e alla loro stessa compressione e la gran massa esplose nello spazio cosmico infiniti furono i frammenti infuocati che dal centro vennero proiettati i frammenti a loro volta seguirono le fasi della sfera madre per cui esplosioni ed esplosioni continuarono frammenti e frammenti si proiettarono sempre più a largo raggio dal centro primo dal generatore di energie da dio ma sempre in dio così ebbero principio i mondi tutti voluti dalla luce cosmica perché in essi trovassero base e sosta le essenze vaganti nel caos da esse stesse generato tutti i mondi cominciarono a seguire ciascuno la sua evoluzione distinta una dall'altra come distinti erano e sono i componenti di ciascun mondo distinti fra loro in quanto raggruppati secondo il livello spirituale di ciascuno infatti non tutte le essenze cadute avevano avuto la stessa intenzione ve ne erano alcune che veramente avevano voluto creare come il centro primo ed essere quindi uguali a lui ve ne erano altre che erano state trascinate e così via in una infinita scala discriminatoria perché infinite sono le gradazioni nel pensiero degli esseri e tutte vive e visibili alla somma luce cosmica quindi i mondi assunsero man mano figure diverse secondo i raggruppamenti delle differenti energie che li formavano e nell'infinità del tempo ancora sono in formazione negli spazi infiniti numerosi furono i centri di energie formatisi e tali si mantengono perché se alcuni scompaiono avendo tutti gli elementi raggiunto un altro livello e quindi essendo assorbiti da altri mondi altri ancora se ne formano per successive divisioni nella materia energetica sempre evolventesi dalla terra voi ne vedete alcuni tutto il vostro insieme che ampollosamente chiamate universo è un che è un altro livello e quindi è un altro livello che sono in un altro livello e quindi non sono energie materializzate che formate la terra siete un atomo nell'atomo fra gli altri atomi ma non divaghiamo per ciò che sono giunto a comprendere ho spiegato come si venne nell'eternità a un principio e come e perché il Dio creò il cielo e la terra.